Bella a tutti e benvenuti in questo nuovo video tutorial, ma prima di iniziare vi chiedo gentilmente di mettere un like e di iscrivervi al mio canale nel caso in cui il video vi sia piaciuto. Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio vedere invece con voi come farmare respiro della vita. Vediamo i vari modi, o meglio, quelli più utili. In questo caso vi propongo il primo, quello meno da sottovalutare ma davvero molto utile, ossia il dungeon segreto. Nel dungeon segreto abbiamo la possibilità di vedere molti mostri che sono light and dark e se avremo la possibilità sicuramente di aiutare le persone. Come potete vedere questo è quello che ci darà nel caso in cui noi aiutiamo le persone, nel caso in cui noi facciamo tutti i round, quindi round 1, 2, 3 e 4. Se facciamo tutti e 4 i round avremo come ricompensa un frammento. Questo in realtà solo la prima volta, ci fa vedere che ci sta più volte ma non è così. Ah no, ok, l'hanno riportato indietro. Allora niente, per le prime 5 entrate, quando noi aiutiamo la gente, facciamo quindi 4 di 4 round, abbiamo la possibilità di droppare 1, 2, 3, quindi 3 volte i respiri della vita, più il frammento del mostro che siamo andati ad aiutare. Questo per 10 volte, quindi se facciamo un piccolo calcolo arriveremo a prendere più di 1000 di respiro della vita già solo in un giorno. Questo evento però, come possiamo vedere da gettone dell'amicizia, 10 su 10, vuol dire che io posso entrare ad aiutare le persone 10 volte, non di più. Perché questo? Questo per evitare di farmare troppo questo materiale. E anche perché quando noi apriamo il dungeon, quindi io farò questa cosa. Ok, mi è stato dato il Penguin Knight. In questo caso se sono io ad aprire il dungeon, non c'è scritto nella ricompensa, ma quando lo apro io, i frammenti sono 5. Sono già 5, non 1 per 1, ma sono 5. Quindi per impedire di farmare anche tutto un mostro, le entry giornaliera personale è 1, invece le entry verso gli amici sono 10. Questo è il modo per farmare il respiro della vita. Il secondo modo, invece, è scambio dei pezzi. Scambio dei pezzi, molti si sono chiesti quali sono i pezzi da scambiare. Tanto per iniziare, partiamo col presupposto che scambio dei pezzi prevede che i 5 stelle vadano a scambiare solo 5 stelle utili. Quindi sono i mob che io personalmente ho preso come Bustet e Vampiro Verde o comunque la mia tier list. Detto questo, andiamo nei 4 stelle. Se qua dovesse mai capitare di avere un 5 stelle, non andrebbe mai, mai, dico mai, tipo questa cosa. Io, che ne so, metto che di lui ne voglio 3, mi darebbe che servono 300 pezzi dei 4 stelle. Perché ogni pezzo richiede 100 di quelli a 4 stelle. Questa cosa non è vantaggiosa, né oggi né mai. Quindi non va mai fatto. Non si scambia mai un 5 stelle per pezzi a 4 stelle. Invece, per quanto riguarda i 3 stelle, la cosa migliore da fare è sicuramente Pozioni dell'esperienza. Anche se questo non lo consiglio per adesso perché vedremo i personaggi da scambiare. E Respiro della vita, dove un pezzo, cioè 1, letteralmente 1, vale 1. Avendo questa ottica, possiamo tranquillamente buttare a farmare esattamente i pezzi che non ci servono. Quindi oggi vediamo insieme i pezzi che non ci servono da buttare per Respiro della vita. In questo caso, saranno i mostri che noi tendenzialmente non usiamo. Quindi abbiamo questo elementale, questo qua. Abbiamo la scimmia. Perdonatemi, quando indico un pezzo si intende tutti i colori. Cioè, per me tutti i colori di lui non sono buoni. Ok, come anche tutti i colori della scimmia. Mentre per quanto riguarda lo squalo, se noi nel caso abbiamo droppato lo squalo, Quindi come in questo caso, ci converrebbe, tanto per iniziare, potenziare le sue abilità a skill level max. E quando l'abbiamo potenziato del tutto, riandare in scambio pezzi e poter scambiare anche lo squalo. Quindi i pezzi in eccesso dei personaggi che io vi proporrò, posso tranquillamente andare all'interno del Respiro della vita. Quindi, in questo caso, la Fairy, l'unica utile, ve lo dico diretto, è quella di fuoco. Cioè, questo personaggio qua, l'unica utile è quella di fuoco. Cioè, questa. Questa è l'unica utile. Mentre per lo squalo, l'unico utile è quello verde. Quindi, se noi avessimo le ferie rosse o lo squalo verde, mi raccomando, prima dobbiamo full skillare il mostro E poi possiamo tranquillamente scambiarlo all'interno per Respiro della vita. Mentre gli elementali vanno dati tutti, sono inutili. Le scimmie, sono inutili tutte, non servono a niente. La mummia, l'unica buona, è quella d'acqua. Cioè, questa qua, quella dove ho il mouse. L'imp, ossia questo diavoletto qua, tutti quanti vanno buttati. Non servono assolutamente a niente. La scimmie l'abbiamo già visto. Gli orsi, cioè questo qui. Gli orsi vanno dati via tutti. Dello yeti, l'unico buono, è quello verde. Quindi tutti gli altri frammenti possono... Sì, quello verde, scusate. Quindi tutti gli altri frammenti possono essere buttati, tra virgolette. Quindi, anche se abbiamo skillato tutto lo yeti verde, allora li potremo usare anche i frammenti verdi. Invece il reaper, pezzi di tristo mietitore, vanno buttati tutti. Cioè, nel senso, non serve a niente il tristo mietitore. Lo squalo l'abbiamo già visto, quello più utile è quello verde. Delle pixi, ce ne sono due principalmente utili. La pixi rossa, quindi questa qui. Quella di fuoco. E la pixi di vento. Cioè, questi mostri fatti così. Le pixi, quindi una volta full skillate, possono essere usate come materiale di scambio per respiro della vita. Poi abbiamo i pezzi di golem. Golem, io personalmente non l'ho mai usato. Neanche quello light, neanche quello darkness. Quindi vi consiglio tranquillamente di usarlo. Cioè, nel senso, per me non c'è nessun problema. Tutti i golem si possono usare. Il cane infernale, invece. I pezzi del cane infernale. Quello più utile è quello darkness. Quindi, tutti gli altri possono tranquillamente essere buttati. Per quanto riguarda invece Frankenstein. Frankenstein, sia quello blu, sia quello rosso. Quindi, sia quello d'acqua, sia quello di fuoco. Sono utili. Sia in PvP che in PvE. Quindi, non li consiglio da buttare. E oltretutto, quando li abbiamo full skillati, allora possiamo usarli come materiale. Gli altri elementi, ovviamente, non hanno nessun problema. Quindi, light and darkness, si possono anche tranquillamente buttare. La mumia l'abbiamo già vista. Per quanto riguarda l'aquila, Garuda. Ci sono solo due Garuda utili. Quello d'acqua e quello di luce. Quindi, vuol dire che tutti gli altri Garuda non servono a niente. Questo vuol dire che anche quando sono full skillati, dopo che sono stati full skillati, possono essere tranquillamente usati come materiale per respiro della vita. Ma solo dopo che sono full skillati. Gli elementari li abbiamo già visti. La corazza l'abbiamo già vista. Questo qua, il pezzo di serpente, tendenzialmente, forse solo il darkness. Ma neanche lo consiglio. Quindi, i serpenti si possono usare tranquillamente tutti. Anzi, quello più buono, scusatemi, è il light del serpente. Però, a prescindere, io vi consiglio di usarli tutti. Perché non l'ho mai visto usare. Invece, per quanto riguarda i pezzi di salamandra, quello più utile è il darkness. Quindi, Upadevil darkness e tutti gli altri li potete buttare. L'imp l'abbiamo già visto. Le pixie le abbiamo già viste. Le elementari già viste. Ok. E all'arpia, mi raccomando, l'arpia è importantissimo. Quella darkness, quella che vi ho detto col ticket a tre stelle di ritirare. Cioè, l'arpia darkness, che poi diventerà Elea, va assolutamente mantenuta. Va full skillata. E poi, solo in quel caso, possiamo buttare le arpie. Fino ad allora, meglio di no. Anche perché non sappiamo se la dropperemo. Se mai droppassimo l'arpia, ce l'avremo full skill. Quindi, finché non la droppiamo e la full skilliamo, mi raccomando, questi pezzi non vanno assolutamente scambiati. Detto questo, abbiamo invece i pezzi a due stelle. I pezzi a due stelle, invece, andrebbero scambiati o per respiro della vita interamente. Quindi, se usiamo tutto e facciamo seleziona tutto. Oppure per le pozioni esperienza. Anche le pozioni esperienza io le trovo naturali da scambiare. Soprattutto perché all'inizio non ci servono per aumentare i nostri mostri e quindi il power level. Io farei tranquillamente scambia. Per quanto riguarda invece pezzi a una stella, tranquillamente, possiamo scambiarli per respiro della vita. O per pozioni esperienza. Io con questo spero di esservi stato utile. Mi raccomando, ci vediamo sempre in stream su Twitch e se vi serve una mano basta chiedere. Ciao a tutti.